Sono Pietro Lema, titolare per il ristorante vegetariano Gioia di Milano. Cari amici, confesso che in passato ho mangiato foie gras e me l'ho anche cucinato. Poi un bel giorno non ce l'ho più fatta e sono riuscito a smettere di farlo. È possibile in realtà cucinare buono e sano e virtuoso verso le rimane anche senza utilizzare ingredienti non sostenibili come il fuagrano. Questo piatto si intitola Il pianeta verde. Questa sopra è una cupola croccante di Verza che nasconde una terrina che imita il fuagrano, una terrina di verdura molto saporita. Sopra c'è una mostarda di mela a cotone e sotto una mela, un apero di casa. Stop a Forra, aderisco volentieri alla campagna via dagli scaffali e viva il cambiamento virtuoso. Novo Busco Unitas Unitas C'è l'